Sai come aiutare i ragazzi di Club Udini? I ragazzi vogliono inviare un messaggio ai loro genitori, ma il cellulare di Diana si è bagnato. Essi possono inviare solo emoticon. Cosa avrà scritto, Martina? Saresti capace di aiutare i loro genitori a decifrarlo? Serve un indizio? Non è nulla di complicato, dà un nome ai segni e saprai il significato. E ora sapresti come aiutare i ragazzi di Club Udini?